I suoi disegni, quei personaggi dalle forme particolari, hanno rivoluzionato il modo di fare fumetto. Surreali, irriverenti, grotteschi, in vignette affollate dove ogni particolare ha un senso. Generazioni di ragazze e adulti hanno amato Cocco, Billo, Arcipippo sulle pagine del Vittorioso sul giornalino. Parliamo di Benito Iacovitti, artista nato a Termoli. Era un genio le sue storie sospese in varie epoche, dalla preistoria all'antica Roma al vecchio West, dove però la storia con la S maiuscola era solo un pretesto perché tutto veniva mescolato in un impasto senza tempo. Una mostra che ricorda Iacovitti a Salcito, a Palazzo Borrelli. Aperta oggi sarà possibile visitarla anche domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 con l'idea di riproporla in estate. A curarla Nicoletta Pietravalle, presidente dell'Associazione di More Storiche Italiane Sezione Molise, che ha intervistato il vignettista più volte, era sua amica e ha voluto esporre cartoline con i suoi disegni, schizzi che ha comprato che le sono stati regalati, pagine del vittorioso articoli di giornali, diari e foto. Un ottimo umorista, vignettista, illustratore, pieno di spirito e una persona poi sempre costruttiva perché faceva ridere ma senza distruggere, faceva ridere costruendo, il che è molto importante. Si rivolgeva ai ragazzi. L'iniziativa nel novantesimo anniversario della nascita di Iacovitti è per celebrare le giornate nazionali dell'Associazione di More Storiche Italiane. Noi facciamo rientrare questa mostra nel discorso dei contenuti delle case antiche. Cioè le case antiche hanno anche, continuano a conservare materiale, non solo quello antico ma anche quello contemporaneo e quindi questo materiale fa parte della mia collezione e di qualche altro socio, questi giornali del vittorioso eccetera. Pietravalle ha anche ricordato come ha ricevuto uno schizzo di Iacovitti dopo un'intervista con un malinconico riferimento alla sua città natale Termoli. Parlai di Termoli e lui mi disse Termoli, ma chi se la ricorda? Io non ci sono più tornato, non ci sono più voluto tornare perché mi ricordo un periodo molto triste, eravamo molto poveri e quindi insomma è un periodo di tristezze economiche, quindi non è che insomma lo ricordo con grande gioia. Però si sedette, prese un foglio di carta e con un pennarello schizzò in tre secondi di questo disegno con tutta la scritta e il fumetto. Quindi io rimasi estasiata e dissi ma questo è veramente un genio. In un attimo l'idea e anche la costruzione fisica del disegno se l'ha inventato in un attimo.